. Uomini e donne, oggi, la Galgani in crisi, Daniele e Gabriella Lasciano. Nella puntata odierna dedicata al trono over di Uomini e Donne, il 42enne Fabrizio chiederà a Gemma di conoscersi meglio. . Il trono over di Uomini e Donne tornerà in onda oggi 9 aprile su Canale 5, come sempre a partire dalle ore 14 e 45. I telespettatori ieri sono rimasti sorpresi nello scoprire lidentità del nuovo spasimante di Gemma Galgani, Fabrizio, un uomo di soli 42 anni, che si è detto desideroso di conoscerla meglio. . La Galgani non è nuova alla frequentazione di cavalieri più giovani, ma mai in passato è uscita con una persona dalla differenza d'età di ben 27 anni. . 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 Posso essere meglio di quello che sembra. Il fatto scatenerà le tradizionali critiche di Tina Cipollari, in attesa di scoprire quale sarà la decisione della Galgani. Trono over anticipazioni, Daniele e Gabriella lasciano. Accantonata la parte dedicata a Gemma Galgani, le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata odierna si concentrano su Riccardo, che si troverà ancora al centro dello studio davanti a Roberta. . In precedenza, il Cavaliere aveva avuto nel backstage un confronto con la sua ex Fiamma alla quale aveva lanciato una pesante accusa, sempre voi le vittime e io il carnefice. . Davanti ad un pubblico schierato dalla parte della di Padua, Guarnieri la accuserà ancora per lo schiaffo ricevuto qualche settimana fa, ti dovresti far perdonare. . Ma tale affermazione porterà Tina Cipollari ad intervenire, definendo Riccardo un uomo squallido. Dopo numerosi litigi, ci sarà oggi spazio anche per una buona notizia quando una coppia annuncerà di voler lasciare il programma per viversi lontano dalle telecamere. . Daniele e Gabriella affermeranno, vogliamo vedere fuori come va. . Le loro parole renderanno inevitabile la dichiarazione di Gianni Sperti, lo vedi le persone serie che hanno davvero voglia di innamorarsi dove arrivano?. .